Se il vostro obiettivo è quello di tornare ad avere o mantenere un cuore sano, ci sono moltissimi alimenti che possono aiutarti a liberare le arterie dall'accumulo di placca, che abbassano la pressione sanguigna e riducono l'infiammazione, che sono i principali responsabili delle malattie cardiovascolari. 1. Asparagi Gli asparagi sono uno dei migliori alimenti per ripulire le arterie. Pieni di fibre e minerali aiutano ad abbassare la pressione sanguigna e a prevenire i coaguli di sangue che possono portare a gravi malattie cardiovascolari. Agisce all'interno delle vene e delle arterie per ridurre l'infiammazione, che può essersi aggravata nel tempo. Aumenta la produzione di glutatione. Aumenta la produzione di glutatione, un antiossidante che combatte l'infiammazione e previene la dannosa ossidazione, che causa ostruzioni o occlusioni delle arterie. 2. Avocado L'avocado aiuta a ridurre il colesterolo cattivo e, ad aumentare il colesterolo buono, utile a liberare le arterie. Contiene anche vitamina E, che previene l'ossidazione del colesterolo, e potassio, che è noto per abbassare la pressione sanguigna. Gli avocado sono un delizioso sostituto della maionese su un panino, o come condimento per l'insalata e, naturalmente, nel guacamole. 3. Broccoli I broccoli possono prevenire l'ostruzione delle arterie perché sono carichi di vitamina K, che impedisce al calcio di danneggiare le arterie. Il broccolo previene anche l'ossidazione del colesterolo ed è pieno di fibre, il che abbassa la pressione sanguigna e riduce lo stress. 4. Pesce grasso Il pesce grasso, stoccafisso, salmone, sardine, aringhe e tonno, sono ricchi di grassi sani che possono aiutare a liberare le arterie. Gli acidi grassi omega 3 aiutano ad aumentare il colesterolo buono, riducendo i livelli di trigliceridi, diminuendo l'infiammazione dei vasi sanguigni e la formazione di coaguli di sangue nelle arterie e possono anche abbassare la pressione sanguigna. 5. Noci Invece di assalire il barattolo dei biscotti, prova una alternativa più sana. Le mandorle sono la scelta migliore perché sono ricche di grassi monoinsaturi, vitamina E, fibre e proteine. Il magnesio contenuto nelle mandorle previene anche la formazione della placca e abbassa la pressione sanguigna. Le noci sono un'altra buona fonte di acidi grassi omega 3, che riduce il colesterolo cattivo e aumenta i livelli di colesterolo buono, che a sua volta riduce il rischio di accumulo di placca nelle arterie. 6. Olio d'oliva L'olio d'oliva è ricco di acido oleico monoinsaturo, un acido grasso essenziale che abbassa il colesterolo cattivo e innalza il colesterolo buono. Ricco di antiossidanti è uno degli oli più salutari da utilizzare in cucina o per i condimenti. 7. Anguria Questa apprezzata delizia estiva è una grande fonte naturale dell'aminoacido L-citrullina, che aumenta la produzione di ossido nitrico nel corpo. L'ossido nitrico causa il rilassamento delle arterie, diminuisce l'infiammazione e può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna. L'anguria aiuta anche a modificare i lipidi nel sangue e riduce l'accumulo di grasso nella pancia. Meno grasso nella zona addominale riduce il rischio di malattie cardiache. 8. Curcuma Il componente principale di questa spezia è la curcumina, che è un potente antinfiammatorio. L'infiammazione è una delle principali cause di arteriosclerosi, o indurimento delle arterie. La curcuma riduce anche i danni alle pareti arteriose, che possono causare la formazione di coaguli di sangue e placca. 9. Spinaci Questo ortaggio verde scuro è pieno di potassio, folato e fibre e aiuta ad abbassare la pressione sanguigna e previene l'ostruzione delle arterie. Una porzione al giorno aiuta ad abbassare i livelli di omocisteina, un fattore di rischio per malattie cardiache come l'aterosclerosi. 10. Cereali integrali I grani integrali contengono fibre solubili, che si legano al colesterolo LDL, in eccesso nel tratto digestivo e lo rimuovono dal corpo. I cereali integrali contengono anche magnesio, che dilata i vasi sanguigni e mantiene la pressione sanguigna a livelli normali. Hai appena constatato come sia facile mangiare alcuni ottimi cibi che aiutano le arterie e il sistema cardiovascolare a funzionare al meglio. Prova a consumare questi alimenti regolarmente e aggiungili a una dieta e a uno stile di vita sani per ottenere i migliori risultati. Se ti piace il video, dagli un pollice alto e condividilo con i tuoi amici.